All'interno di Arterefix è possibile trasformare le forme in almeno due modi diversi. Vediamo il primo. Nel momento in cui io traccio una forma normale, al nostro interno vediamo i parametri, perché questa è una forma parametrica. Ora la cancelliamo. Nel momento però in cui io attivo tracciato Bézier, questa che traccio non è più una forma parametrica, bensì è un tracciato Bézier. A questo punto io posso gestirlo con le curve di Bézier, quindi posso aggiungere dei punti con lo strumento penna, così ho aggiunto un punto e poi posso gestirlo, oppure posso aggiungere un punto e tenendo premuto posso creare una curva di Bézier. A questo punto ne risulta che, se io animo il tracciato, fermo un keyframe all'inizio, dopodiché mi sposto avanti sulla linea temporale, creo un punto e lo modifico, creo un altro punto e lo modifico, creo un altro punto ancora e faccio una curva, se io mi muovo nel tempo avremo prima la forma originale e poi la forma trasformata, con i punti spostati come li ho impostati in questo punto nel tempo. Un altro modo per trasformare le forme è partire da una forma, partiamo per esempio da un poligono. Ora sempre all'interno dello stesso livello forma creiamone una seconda, creiamo per esempio una stella, un po' meno punte magari. Ok. Ora, entrambe queste forme contengono dei tracciati. Ed eccoli qua. Ora io seleziono la mia stella, mi posiziono all'inizio e faccio partire lo stopwatch sul tracciato. Dopodiché mi posiziono a due secondi, seleziono il tracciato dell'altra forma, lo copio, Command-C, riseleziono il tracciato della stella e lo incollo. Allora vediamo che in questo momento il poligono stella è scomparso. Io in ogni caso lo chiudo, perché altrimenti lo vedremo ancora, ma io lo chiudo. e vediamo come una delle due forme va a trasformarsi nell'altra. L'animazione è questa.